Gli ostacolisti Montini e McFall stendendo la corsia della prima frazione per Marco Colombo Riccardi Attenzione anche al grande avvio di Luca Aibe a 100 torri Azionato Federico Cattani intanto per la Riccardi in corsia 3 Riccardi a 100 torri, Riccardi ha il comando con Diego Arani in terza frazione 20 e 36 personale su 200 E va, ciao, Anderson Polanco Polanco Attenzione a 100 torri seconda, Polanco va a chiudere